Tutto il popolo di Sulmona accoglie col più cordiale ed affettuoso cameratismo i gloriosi alpini di un battaglione dell'inditta divisione Iulia, reduci dal fronte di Grecia e di Russia. Madri e mogli dei caduti precedono i valorosi reduci. Madri e mogli dei caduti precedenti. In piazza 20 settembre il prefetto, il federale, il popolo tutto hanno esaltato il valore e le vitoriose vicende vissute nelle stette russe dagli alpini abruzzesi che hanno meritato gli elogi dei comandi superiori italiano e germanico.